Carlo Lucarelli in diretta sui tv, un evento imperdibile in programma venerdì sera alle 21. Il famoso giallista e conduttore presenterà lo spettacolo Work in Progress sulla strada delle storie e dei loro personaggi. Il sogno di volare è la canzone regina del primo disco di Andrea Buffa. Proprio attorno a questa canzone ruota il nuovo libro di Lucarelli che porta lo stesso titolo. Al centro del romanzo è ancora una volta Grazia Negro, l'ispettrice di Polizia di Bologna, già protagonista di All News Blue e di Un giorno dopo l'altro. Così è nata, quasi per caso, la collaborazione fra i due artisti che hanno dato vita ad una serie di incontri che partirà proprio da Como il 30 marzo. Un evento dove musica e parole si intrecceranno per raccontare storie e personaggi, elementi comuni della vita artistica di entrambi. L'evento è organizzato dall'assessorato alle politiche giovanili del comune di Como, dall'associazione culturale Manca Mezz'ora, come detto in diretta alle 21 di venerdì su ETV.